Se state per convolare a nozze o se state semplicemente pensando, venite a scoprire il nuovo servizio di Mobilia Megastore Wedding by Mobilia. Un'idea molto innovativa che solo un grande centro arredamenti come Mobilia Megastore, sempre vicino alle esigenze dei clienti, può creare. Grazie alla formula all inclusive di Wedding by Mobilia, sposarti è più facile e soprattutto più conveniente. Pensate, solo 17.900 euro per avere. Siete pronti? La Wedding Planner per organizzare il matrimonio, l'abito da sposa, il servizio fotografico, l'auto nuziale con autista, le partecipazioni, il pranzo nuziale in una location da favola, una crociera per un bellissimo viaggio di nozze e un arredamento completo che puoi scegliere tra classico e moderno e il tutto a soli 17.900 euro che puoi pagare in 48 mesi. a interessi zero. E per altre informazioni visitate il sito mobiliawedding.it oppure vi aspettiamo da Mobilia Megastore. In ogni sede c'è un'area completamente dedicata al matrimonio dove vi aspetta una Wedding Planner che vi illustrerà senza impegno ogni aspetto di questo rivoluzionario servizio dedicato a chi sta per dire di sì. E per darvi qualche anticipazione abbiamo incontrato per voi una Wedding Planner di Wedding by Mobilia. Ciao Lucia, allora spiegaci qual è il ruolo della Wedding Planner. La Wedding Planner cerca di trasmettere attraverso la propria esperienza un senso di fiducia e tranquillità per minimizzare lo stress che è associato alla parola matrimonio. Nella prima fase spiega i vantaggi che l'offerta di Mobilia propone e nella fase di preparazione dell'evento guida gli sposi nella scelta. Quindi voi seguite gli sposi, cioè proprio dall'inizio alla fine? Sì, coordiniamo i vari servizi offerti che siano quelli che la coppia desidera e accertiamo il giorno dell'evento che tutto sia portato avanti a secondo come disposto. Qual è il tipo di consiglio che date più di frequente agli sposi? Tenendo in considerazione quelli che sono i loro desideri, quelli che sono particolari per la sposa in quello che è il suo sogno, cerchiamo di guidarla nella scelta delle partecipazioni, nella scelta dell'abito, nella scelta anche a volte della location, cose un po' più frivole tipo che tipo di pettinatura o che tipo di smalto devo mettere, cose che sembrano abbastanza frivole però sono molto importanti per quel giorno. Come è stata accolta questa iniziativa Wedding by Mobilia proprio dal Futuri Sposi? Sì, diciamo molto bene perché finalmente, almeno quello che ci dicono in parecchi, hanno qualcuno che si dedica completamente, quindi dalla A alla Z e che li consiglia e li segue in tutti gli aspetti del matrimonio. Molte coppie per esempio lavorano quindi hanno poco tempo a disposizione, altre non hanno le idee non troppo chiare, vorrebbero, quindi cercano anche di essere guidate. Ma cerchiamo di scoprire più nel dettaglio cosa è compreso nel servizio Wedding by Mobilia, come il servizio fotografico e per questo incontriamo Julio Mendez, un fotografo dello studio fotografico Mendez. Ciao Julio. Ogni fotografo ha il suo stile, ma il tuo qual è? Allora noi abbiamo tre stili fotografici per raccontare un matrimonio. Abbiamo un matrimonio Glemur, un matrimonio all'italiana e un matrimonio reportage. Il matrimonio Glemur è un matrimonio dove la coppia partecipa molto con il fotografo e ama delle foto più di moda. Poi c'è il matrimonio all'italiana, è un matrimonio dove la coppia non vuole prendere troppo sul serio il matrimonio, vuole scherzare, stare in allegria e vivere la giornata in modo spensierato. Poi ci sta il matrimonio reportage, è un matrimonio dove noi non interagiamo con la coppia, raccontiamo tutto l'evento però senza disturbarli. Il servizio fotografico si svolgerà dal mattino a casa dello sposo, casa della sposa e seguiremo la cerimonia fino al taglio della torta. Il tutto sarà inserito in un album. Ma gli album sono personalizzabili? Sì, certamente, la coppia si sceglierà l'album in base ai loro gusti, c'è l'album moderno oppure per la coppia che vuole un album più classico. Le foto verranno inserite con stampa digitale e non più applicate come una volta, diciamo c'è un album moderno. Quindi ogni pagina è caratterizzata dalla foto? Sì, praticamente viene stampata direttamente e quindi ha uno stile nuovo. Poi l'album è abbinata anche alla borsa che è personalizzata in base all'album che sceglieranno. Nel servizio wedding di immobili è compresa anche l'auto che accompagna la sposa. Facciamoci spiegare da Sergio Lieto che saluta come funziona. Sì, abbiamo inserito all'interno del nostro pacchetto wedding, abbiamo inserito quello che per noi rappresenta il lusso per la giornata più importante della vita di una sposa, abbiamo inserito una Mercedes, questa qua in particolare è il modello 320S. Questa macchina porterà la sposa da casa, la porterà in chiesa, la porterà a fare le foto e poi la porterà nella location. Quindi una giornata completamente a disposizione. È una macchina con l'autista che praticamente sarà completamente a disposizione della sposa. Noi chiederemo alla sposa di darci il percorso, quindi esattamente tutte le richieste della sposa verranno esaurite. Ma la sposa che l'auto dovrà accompagnare, che vestito avrà? Lo chiediamo a Paola Molisso dell'Atelier Molisso che è in esteltore da più di 40 anni e che firma la collezione speciale dedicata al Wedding by Mobilia. Ciao Paola! Ciao Flavia! Parlaci di questa collezione. La collezione che ho dedicato a Mobilia Wedding è una collezione romantica, una collezione dedicata alle donne che hanno scelto l'amore. Una collezione particolare, arricchita da tessuti pregiati, da pizzi importanti e da ricami artigianali fatti a mano, interamente a mano. Ed è una collezione varia, che soddisfa le esigenze delle clienti anche più particolari. Abbiamo un'ampia scelta di modelli, abbiamo dagli abiti di tulle e pizzo, abiti completamente di pizzo, abiti gioiello come questo che abbiamo qui sul manichino, che sono tutti ricami con pietre svarosche. E poi abbiamo comunque degli abiti di raso in seta pura, dalle linee ampie, linee mini scivolate, quindi adatti anche ad ogni tipo di matrimonio, perché l'abito si sceglie anche in base alla location e se di mattina oppure di pomeriggio. E quindi come avviene appunto la scelta dell'abito? La cliente fissa un appuntamento presso il nostro atelier dove potrà visionare, nonché provare, la collezione dedicata al wedding by mobilia e sono più di 30 abiti da sposa. E provando gli abiti lei sceglierà in base anche al suo corpo e sul mio consiglio l'abito che le sta meglio e che risalta il suo corpo. Ci sono dei costi aggiuntivi? Possono esserci dei piccoli costi aggiuntivi perché anche se l'abito è realizzato su misura a volte è necessario fare qualche ritocco sartoriale e in questo può consistere il costo aggiuntivo. Ma come si fa a capire qual è l'abito e qual è il proprio abito? È l'abito che le regala un semplice sorriso oltre a starle bene quando lo indossa. Per parlare della comunicazione incontriamo nuovamente Lucia, le partecipazioni infatti sono importanti e incluse nel servizio wedding di Mobilia Megastore. Raccontaci appunto come avete organizzato tutto questo. Sì, le partecipazioni sono per 100 persone e possono essere scelte nei colori, abbiamo a disposizione tre colori, il blu, il nero e il bordeaux e due differenti tipi di carta. Una carta un po' più ruvida che ha un aspetto un po' più classico e una carta invece un po' più liscia che ha un aspetto un po' più giovane, con due differenti tipi di buste che poi verranno scelte dagli sposi. E torniamo a parlare con Sergio Lieto. Questa volta, Sergio, l'argomento mi interessa particolarmente perché parliamo di viaggio di nozze e crociera. Non solo crociera, abbiamo scelto la crociera perché è il classico del matrimonio, ma avendo un'agenzia di viaggio all'interno del complesso Mobilia abbiamo altre destinazioni che mettiamo nella nostra offerta di matrimonio, quindi gli sposi, la coppia può scegliere delle destinazioni diverse dalla crociera. Ma se ad esempio io ho dei desideri oppure delle esigenze particolari, ad esempio non so, se volessi la Ferrari per il giorno del mio matrimonio, addirittura mia moglie volesse la carrozza? Assolutamente, anche qui abbiamo una risposta e la risposta è sì, possiamo esserti di assistenza, abbiamo dei partner con i quali abbiamo fatto degli accordi, possiamo offrirti la Ferrari, possiamo offrire la carrozza con i cavalli, possiamo offrire un pulmino sia ai degli ospiti che vengono da lontano, un intrattenimento per i bambini. Abbiamo tante offerte da soddisfare qualsiasi esigenza, abbiamo un make-up artist per esempio, abbiamo il parrucchiere, ti possiamo aiutare con le bambunie, possiamo fare una serie di servizi aggiuntivi che possono soddisfare qualsiasi esigenza. Ecco, mi sembra di capire che questa offerta ha un costo medio di 17.900 euro. Esatto, noi abbiamo pensato che con questo prezzo di 17.900 sia un'offerta che sia molto soddisfacente con un buon arredamento, però abbiamo anche altre soluzioni che possono costare di meno. Ma devo aver già fissata la data? Assolutamente no, puoi fissare il pacchetto, bloccare l'offerta, poi decidi il numero di invitati, la data, con il capo. Quindi voi offrite un servizio professionale con garanzia al 100%? Esattamente così, Mobilia si è rivolta a dei soci affiliati in questo progetto, da cui da loro prendiamo la stessa professionalità e qualità che offre Mobilia, per dare un servizio come Mobilia offre da sempre, con professionalità, a un prezzo ottimo. Torniamo a parlare ancora con Lucia, perché vorrei sapere da lei qualche informazione sul ricevimento e sulle location dove si svolge. Sì, abbiamo al momento tre location, una sul Golfo di Pozzuoli che è la Los Club, che ha un impatto giovane e contemporaneo, poi abbiamo il Grand Hotel Van Vitelli a Caserta e il Grand Hotel Salerno sul Golfo di Salerno. Ambe due, questi ultimi, hanno un'atmosfera da grande albergo, più, diciamo, un impatto più classico. Oltre a queste tre location stiamo in contatto con altre location per ampliare la scelta e venire incontro alle esigenze della nostra clientela che arriva da tutta la campagna. Quali sono e come avviene la scelta dei menù? Sì, ogni location ha studiato per noi il menù che esprime al meglio i prodotti della loro eccellenza, tenendo comunque conto della flessibilità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Per esempio il menù del Van Vitelli è un menù principalmente di carne ma anche con una scelta di pesce, mentre invece il menù della Los Club è un menù basato sul pesce. Fermo restando che comunque, come dicevo prima, i menù sono abbastanza flessibili. E siamo arrivati all'arredamento, una parte importante del pacchetto All Inclusive by Wedding di Mobilia e siamo qui con Fabio Carluccini che saluto e che ci illustrerà l'arredamento tipo per il Wedding by Mobilia. Sì, perché noi arredatori di Mobilia abbiamo scelto e progettato un arredamento tipo sia classico che moderno per questo pacchetto Wedding. E come si compone l'arredamento tipo appunto del Wedding by Mobilia? Sì, partiamo dalla cucina che è l'elemento fondamentale dell'appartamento e infatti offriamo un esempio di composizione di 3,30 metri, completa di elettrodomestici e non solo perché ci includiamo anche una stupenda lavastoviglie. Offriamo anche tavolo con quattro sedie, tavola allungabile ovviamente, insieme alla zona che la cucina perché oggi esiste anche il living quindi potrebbero esserci delle soluzioni dove ho bisogno di una parete attrezzata e l'abbiamo anche inclusa. Una parete attrezzata di circa 2,70 metri in varie colorazioni, passando poi alla zona notte dove abbiamo una composizione di camera da letto che include un letto contenitore completa di rete e materasso, due comodini, un comò e un armadio scorrevole. Questo sempre ovviamente nella possibilità di cambiare sia colorazioni che composizioni. Rimanendo sempre nella zona giorno, oltre alla parete attrezzata che ho citato poc'anzi, offriamo anche la possibilità di scegliere un divano angolare o altresì una cupa di divano che può essere un tre posto o due posti, scegliendo vari rivestimenti sia in tessuto che in ecopelle. Ribadiamo il concetto che comunque non è fisso come arredamento perché si può tranquillamente cambiare l'elemento che possa essere la cucina, possa essere la camera da letto, perete attrezzata, tavola, sede o divano con altre soluzioni di vostro gradimento. Se non mi piace la cucina di finitura bianca la potete scegliere in noce, se non vi piace il letto di color ciclamino lo potete scegliere rosso e così via. Sentito, viene voglia di sposarti! Eh sì! E poi ricordiamo che con Mobilia Megastore puoi pagare il tutto, matrimonio e arredamento, anche in 48 mesi a tasso zero. In questo modo il matrimonio non è più quel grosso impegno economico da affrontare. E poi nel servizio Wedding by Mobilia c'è anche la Wedding Planner che vi aiuta a fare le scelte migliori e sarà con voi al ricevimento per controllare che tutto funziona alla perfezione. Ma ricordiamo che il pacchetto Wedding by Mobilia è un all-inclusive e ti offre anche l'abito da sposa, il servizio fotografico, l'auto nuziale con autista, le partecipazioni, il pranzo nuziale in location da favola, il viaggio di nozze e un arredamento completo che puoi scegliere tra classico e moderno e il tutto soli 17.900 euro. E da come abbiamo capito questo prezzo si riferisce solo ad un pacchetto medio, si può spendere anche di meno. Un'altra cosa importante da ricordare è che l'arredamento che vedete nell'offerta è solo indicativo perché da Mobilia Megastore ci sono tante altre soluzioni di arredo da poter scegliere. Wedding by Mobilia, il sogno più bello, si avvera. E inizia quando entrerete in uno dei centri Mobilia Megastore perché, come si dice da queste parti, auguri per figli maschi. E ma perché qualcosa contro le donne? No, assolutamente, è un modo di dire, anzi... Grazie! 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 Grazie!